Provo a riassumere un po' quelle che sono le domande. C'è una domanda di Federico Proterra che si pone il dubbio se, lui la chiama la nazionalizzazione dell'acqua, quindi possiamo probabilmente dire la ripubblicizzazione del servizio idrico, non possa portare il rischio di mantenere il paradigma cittadino-cliente nel prodotto acqua. Adesso le leggo tutte e tre, poi magari vediamo chi si sente più di rispondere. Un altro commento di Maurizio Puppi, spero di interpretare bene le domande. In sostanza ci chiede come possiamo rilanciare in qualche modo e ottenere dei risultati importanti a tutti i livelli sul tema dell'acqua, perché appunto ci richiama un po' il fatto che, come abbiamo detto tante volte questa sera, il tema dell'acqua è legato al tema della nostra sopravvivenza, quindi è importante non arretrare ma riuscire ad ottenere, continuare ad ottenere dei risultati. Quindi come possiamo fare da alcuni suggerimenti, in realtà i relatori ce li hanno dati, ma come possiamo mettere un po' a fuoco le iniziative da portare avanti. Ecco, un altro intervento è appunto sempre un po' in questa linea di come riuscire a obbligare tra virgolette i politici a dare attuazione finalmente al referendum che, come abbiamo già ricordato, quest'anno ricorrerà il decennale a giugno, ma la nostra, anche se ricordiamolo sempre, è servito quel referendum perché altrimenti a questo punto avremmo già delle situazioni molto più avanzate di privatizzazione del servizio idrico, perché se non l'avessimo affermato a quest'ora tutti gli enti sarebbero stati obbligati a mettere a gara il servizio idrico. Quindi ricordiamocelo sempre, ma sicuramente il passaggio in più che chiedevamo con questo referendum non è stato fatto. E quindi occorre sempre ovviamente vigilare. Ecco, più o meno queste sono le domande che sono pervenute. Non so, tra i relatori, se qualcuno ha qualche, penso a Emilio magari, o Renato, Luca, Dacia, insomma, chi vuole, a piacere di fare un commento su queste domande che sono pervenute. Ecco, poi ce n'è una anche in particolare per Renato, sulle strategie sull'acqua, che se puoi magari brevemente dirci le differenze che ci sono tra l'Europa e gli altri continenti e se qui le strategie che abbiamo in Europa possono essere un modello per... No, aspetta, che forse è il contrario. Le strategie dei vari continenti e se qui in Europa abbiamo dei paesi che possono essere presi a modello per lavorare anche nella situazione italiana. Ecco, magari possiamo partire da te, Renato, su questa domanda senza appunto dilungarci troppo e poi magari chiederei a Emilio un commento su questo rischio che vedeva questa persona che ha fatto l'intervento nel permanere nel paradigma cittadino-cliente sull'acqua. Sì, beh, è stato... cioè questo partecipare a tanti fori e conoscere le varie lotte è stato molto importante, veramente molto importante, perché abbiamo scoperto che anche nella nostra Europa ci sono tantissime esperienze di lotta, di impegno, di... che veramente hanno portato anche dei risultati rispetto alla realtà che siamo. Ricordiamoci che noi siamo al centro di un continente dove ci sono le più grosse multinazionali dell'acqua, ok? Quindi qualsiasi piccolo risultato che abbiamo qui è importante anche per altri. Però io voglio fare un esempio spagnolo, no? Durante il movimento dell'M15 in Spagna, alle persone che erano in piazza a lottare, giovani, il movimento dell'acqua che in quel momento a Madrid era piccolo, ha portato delle brocche, no? Con l'acqua del rubinetto, no? Con su scritto, attenzione, perché privatizzano l'acqua del canale Isabel II. Quel gesto ha creato un collegamento così forte con la realtà giovanile di quella zona che poi hanno fatto sulla falsariga anche dell'Italia un referendum completamente autogestito nel quale per due giorni hanno votato più di 350.000 persone contro la privatizzazione del canale Isabel II e hanno bloccato la privatizzazione. Così come è successo in Irlanda. Cioè in Irlanda le persone non potevano assolutamente pensare che si potesse mettere addirittura un controllo all'acqua, anche un contatore all'acqua. E c'è stata una rivolta in Irlanda con a Dublino 250.000 persone che da noi sarebbe come 3 milioni, 4 milioni di persone, no? E con le signore dei paesi che andavano a bloccare quelli che erano mandati dal governo per mettere i contatori. Soltanto che di tutte queste cose noi conosciamo poco perché non riusciamo a comunicare le tantissime cose che avvengono, no? E molte di queste pratiche noi le abbiamo apprese e scambiate con le realtà dell'America Latina dove hanno però la possibilità, avendo avuto alcuni governi progressisti, di mettere in pratica alcune delle cose che qui noi non riusciamo a mettere in pratica. Quindi ecco perché è importante avere e collegarsi. Le strategie possono essere tantissime. Se, ad esempio, non ci fosse stata Cochabamba, la guerra dell'acqua in Bolivia, probabilmente noi in Italia avremmo avuto un'altra storia. E se non ci fosse stato il referendum in Italia, no? Non mi avrebbero preso e portato in Spagna a fare dieci incontri in tutte le città per parlare di questo referendum. E fra un'ora farò un incontro con le realtà dell'America Latina proprio su questo perché vogliono che parli del processo sociale che ha portato al referendum. Quindi noi dobbiamo, diciamo così, non solo ricostruire una narrazione su quello che è il sistema, ma anche narrare quello che facciamo, perché ne facciamo tantissime nel mondo. L'unica cosa che dobbiamo metterle insieme è che dobbiamo studiare perché non è che è il potere che ci può cambiare le cose. Cioè non è che noi chiediamo ai privatizzatori per favore gestissimi l'acqua in maniera democratica e partecipativa. Noi dobbiamo essere in grado, come fanno in molte parti dell'America Latina, di dire questo non va, io mi organizzo, cambio potere politico, cambio potere sociale, mi organizzo, la gente partecipa, cambio la gestione dell'acqua. D'altronde non è che ci sono tante alternative. Voi ve l'immaginate Draghi che ci ripubblicizza l'acqua e ci fa partecipare alla gestione dell'acqua? Insomma, mi sembra un po' difficile. Quindi dobbiamo fare molto di più. Ma ripeto, io sono disponibile a raccontarvi tutto quello che abbiamo visto, anche a andare insieme a vedere tutte queste esperienze, però ripeto, anche in Irlanda, che uno non se l'aspetta per niente, ci sono state delle manifestazioni di massa enormi, come per esempio l'abbiamo fatta noi in Italia. Quindi c'è moltissimo da mettere insieme e delle alternative ci sono, come no, assolutamente sì. Grazie, grazie Renato. Adesso darei la parola a Emilio su qualche punto di riflessione sul tema della nazionalizzazione dell'acqua e poi anche a Luca se un'altra domanda che è arrivata è sugli strumenti che sono nelle nostre mani per far fronte alla crisi idrica, visto che in California ne sanno bene di questo tema. Manuela, scusami Manuela, una cosa soltanto, ovviamente mi ero dimenticato di dire che c'è l'idea in giro, sta montando l'idea che in Italia si possa fare il prossimo incontro delle multinazionali e stanno cercando di mettere insieme pezzi di potere per far vedere che questo incontro sarà sociale, popolare, eccetera, eccetera. Attenzione all'informazione che vi daremo perché questo è un grave problema che vengano qui appunto le multinazionali e i fondi sporchi a decidere di cosa fare della nostra acqua. Scusami ma era una cosa che mi è scappata, perdono. Doveroso, doveroso, grazie. Lascio quindi la parola a Emilio. Ma io non lo porrei questo, in termini di timore, che ci sia una nazionalizzazione del servizio idrico in Italia o nel mondo. E la paura che si diventi clienti di questo servizio. Ecco, io le parole, farei proprio un'operazione culturale dentro a quello che proponevo come rilancio, come un ritornare alle origini per certi versi. che le parole utenti e clienti, per quanto riguarda il servizio idrico, non vanno bene. Io credo che ci siano dei cittadini che sono portatori di un diritto, di un diritto umano sacrosanto. Il diritto a bere, il diritto a lavarsi, il diritto a servizi genici, il diritto all'acqua, inteso come diritto umano, non utente o di un servizio. Ciò non toglie che noi dobbiamo batterci. Come ci battiamo, e lo diceva Arroco prima, per un servizio, e oggi ne abbiamo conferma da quello che sta succedendo, per un servizio pubblico sanitario, e perché sia realizzato e non privatizzato. Ci battiamo perché ci sia un servizio pubblico idrico non privatizzato. E che ci sia la partecipazione della gente. E che forse è da sperimentare questa cosa. Di capire come le aziende che ritornano pubbliche trovano anche la possibilità di far partecipare i lavoratori che ci lavorano e i cittadini e trovare le forme. E dare la garanzia che sei un portatore di diritti e non sei né un cliente pagante né un utente di un servizio. Parole che applicate all'acqua non danno il senso, ma non lo danno neanche per la sanità. Non sei un cliente del servizio sanitario, sei un cittadino portatore di un diritto. Ecco perché io metto insieme le due cose. Questa è la cosa che mi sentirei di dire e di rispondere. Vorrei intanto ringraziare Dacia, è l'amicizia che ci lega, è il piacere che è sempre disponibile, e volevo chiedergli una cosa, lo so di chiedergli troppo, ma questa visione di rilanciare questa, se vogliamo, di nuovo il clima e le speranze delle origini del movimento dell'acqua e rivolgersi, come diceva anche Renato, di ritornare alla dimensione globale, alla dimensione spirituale dell'acqua e forte dell'acqua, ha bisogno anche dei trasmettitori che sono gli intellettuali, che sono gli artisti, che sono gli scrittori, che diventino protagonisti di questa cosa, anche loro. Io chiedo a Dacia, per gli spazi e le relazioni che ha, di fare, come si può dire, da ripercussione dentro nel suo mondo, che talvolta per noi è difficile da raggiungere. Ecco, so che ti chiedersi tanto, ma è questo anche, perché c'è bisogno, c'è bisogno degli intellettuali e del loro impegno, di nuovo, su questa cosa, come c'è stato nel passato. Così come c'è bisogno, lasciatemi dire, queste cose non si fanno se non c'è una coscientizzazione dei lavoratori. I lavoratori sono un penal, le aziende funzionano perché ci sono dei lavoratori e se i lavoratori non hanno la coscienza del diritto e non sentono di essere lavoratori ma anche cittadini e che se l'acqua diventa privata anche loro ne pagano le conseguenze. Ecco, è importante che ci siano perché sono il fattore del controllo, il fattore della partecipazione principale. Io mi sento di fare anche questo richiamo. E di nuovo grazie a Dacia. Grazie. Forse Dacia stai dicendo qualcosa ma vedo che hai il microfono spento. Grazie a tutti. Grazie anche a voi. No, sono d'accordo con te. Per cambiare bisogna crederci. Siccome siamo in un momento invece di depressione, di passività, diciamo che c'è una forma di passività rispetto al futuro, e io darei anche molto la colpa per esempio ai giornalisti e a questi insopportabili talk show chiamati così in cui non si fa che criticare, criticare, criticare. Ognuno si sente un po' come il calcio. Ognuno dice come dovrebbe essere la partita e non va bene niente. Però così non si cambia nulla. Infatti io spesso nelle scuole, quando vado nelle scuole, trovo che loro dicono ma tanto non c'è niente da fare. Ma è detto da un ragazzo di 17 anni. È gravissimo. Perché se non ci crede lui che deve rimboccarsi le maniche e lavorare per cambiare. Però chi gliel'ha messo in testa che non c'è niente da fare? Noi, cioè io non magari, ma chi, insomma, diciamo così il sistema mediatico è un sistema in questo momento che tende alla critica un po' diciamo puntigliosa e ossessiva per cui ognuno si sente fuori e critica gli altri e però la critica così a un certo punto impedisce qualsiasi entusiasmo, qualsiasi fiducia nel futuro. Cioè bisogna un po' credere nel futuro per poter cambiare le cose. Secondo me se non si crede nel futuro non si cambia niente. E allora ecco, forse gli intellettuali, gli scrittori, anche i cineasti, anche chi lavora in televisione dovrebbero un po' di più dare un certo passione come ce l'avete voi, ce l'abbiamo noi, un po' di vigore, di passione di dire ma si può, si può, si può migliorare la condizione dell'acqua. Non è vero che non si possa. Sembra che ormai siamo ormai destinati alla rovina, al disastro e c'è una passività. Io sento questa passività che è grave perché nella passività non succede nulla. Si va verso la morte. Quindi bisogna credere un po' di più, avere un po' più di fiducia in noi, nelle possibilità della collettività, eccetera. Io solo questo penso e penso che sì, più intellettuali dovrebbero farlo. Io cerco di fare il mio meglio, tu lo sai, da tanto tempo che scrivo, faccio, intervengo, però è dura perché in questo momento c'è un atteggiamento di sfiducia, sfiducia del futuro. Per cui tutti sono lì a criticare, non va bene niente, non va bene niente, ho capito, ma allora da dove tiriamo fuori questo futuro, questa possibilità di cambiare le cose. Quindi ecco, io mi impegno a fare il massimo che posso a cercare di contagiare un poco con la passione per il cambiamento e anche per i diritti, i diritti bisogna conquistarseli, non ti puoi aspettare lì tranquillo che te li regalano perché i diritti bisogna conquistarseli e il diritto dell'acqua come hai detto giustamente come hanno detto tutti è il diritto primario primario per cui bisogna difenderlo. Ma penso che voi avete fatto moltissimo col forum forse ancora di più magari trovare delle alleanze io penso che dovreste trovare delle alleanze con altri gruppi altre organizzazioni che anche magari che non è proprio diretto all'acqua ma che si può scambiare gli interessi per così sensibilizzare l'opinione pubblica. Grazie grazie Dacia per anche per queste sollecitazioni che in realtà come forum stiamo portando avanti proprio confrontandoci con gli altri movimenti che si battono per magari altre questioni ma cercando di fare fronte comune e devo ricordare che come tutte le battaglie ovviamente bisogna anche disporre di fondi per poterle fare quindi prima di cedere ancora la parola per un passaggio a Luca Celada sulla questione della crisi che cosa possiamo fare anche come cittadini di fronte alla crisi idrica ricordo che è possibile devolvere il 5x1000 al forum italiano dei movimenti per l'acqua e anche fare delle donazioni sul nostro sito perché appunto come è emerso chiaramente questa sera di cose da fare di battaglie da portare avanti ce ne sono ancora tante troppe purtroppo anche sull'acqua e quindi c'è ahimè anche bisogno del sostegno economico di tutti e tutte passo ancora appunto per un'ultima riflessione chiedo scusa se non riusciamo a leggere tutte le domande ma insomma si sono fatte già le otto e mezza e ad ogni modo appunto vediamo ancora la possibilità di un di un commento di Luca Celada visto che è stato così prezioso a collegarsi dall'altra parte del mondo sì no grazie brevemente mi vorrei ricollegare a quello che diceva Dacia Maraini e alla problematica di questi problemi epocali e lo sconforto che che generano da un lato e dall'altro l'importanza di capire che si tratta di problemi intersezionali secondo me quindi questo problema dell'acqua ormai è chiaramente collegato inestricabilmente a quello del mutamento climatico e vorrei sottolineare che la più grande fonte di speranza almeno per me è il movimento come Fridays for Future di Greta insomma c'è poco da fare insomma non tutti i 17 anni per fortuna sono disperati bisogna apprezzare questo sforzo e farne tesoro noi vecchi intellettuali nel senso quella è la fonte della passione forse che dicevi che è elemento essenziale a me sembra ripeto gli eventi degli ultimi mesi che raccontava anche il professor Arroco questa quotazione in borsa rendono ineluttabile il fatto che la controparte ha scoperto le proprie carte non importa se siamo arrivati già due o tre volte sull'orlo del collasso economico per speculazioni simile non importa che l'elettricità che in California ci sono state black out perché una corporation a Dallas faceva dei miliardi non importa che poi a farne le spese sono sempre la popolazione in prevalenza afroamericana di Flint dove manca acqua potabile da diversi anni o quelli di Jackson Mississippi che hanno appena avuto un black out idrico di un mese in seguito a scompensi climatici quindi le linee sono chiare è ovvio che ci vuole mobilitazione civile delle popolazioni indigene vedevo nei chat che soprattutto in Sud America ma anche qui accanto il fiume Colorado per le speculazioni e per come è stato utilizzato da decenni non arriva più al proprio estuario nel mare di Cortez le tribù co-copa che abitano lì si sono fatte si sono mobilitate nel loro piccolo ma insomma mi sembra che bisogna ricongiungere i giovani globali le popolazioni indigene organizzazioni civili come questa ed è cruciale il lavoro che è stato fatto in Italia come riconosceva Rocco e in qualche modo contrastare questo questo sistema io non so se si tratti di uno scompenso di tardo capitalismo o come scriveva Giovanni Arrighi della diciamo della struttura naturale del capitale che qui deve arrivare alla speculazione ad oltranza quale che sia è una minaccia diretta alla nostra sopravvivenza e bisogna collegare in qualche modo questi movimenti e forse non so so che ci sono state proposte di tribunali internazionali per i crimini contro l'ambiente potrebbe essere un sistema io conto molto su quello che potrà fare Rocco alle Nazioni Unite per esempio ma in qualche maniera insomma il tempo sta scadendo e è essenziale tenere la linea grazie grazie Luca anche magari sentiamo per un intervento conclusivo il nostro padre Alex che che così ci dà un po' di speranza vero padre Alex che speranza ha ragione Luca il tempo sta scadendo ne abbiamo pochissimo se perdiamo l'acqua è finita ragazzi io direi prima di tutto prepariamoci bene a celebrare il decimo anniversario da referendum proviamo a trovare certamente avanti al Parlamento ma io proverei a pensare seriamente a un mail bombing su tutti i partiti e tutti come si chiama i deputati perché sentono quello che la gente pensa questo secondo me potrebbe anche avere una sua efficacia poi mi raccomando proviamo a vedere le banche che investono nell'acqua e in cominciare a fare una serie davvero è una sfida importante questa perché il problema tutto il problema è che si gioca sui soldi se tocchiamo le banche guardate che abbiamo toccato il cuore del problema tocca a noi ce l'abbiamo fatto sembrava impossibile fare il referendum dobbiamo farcela ripubblicizzare l'acqua in questo paese grazie per questa bellissima serata grazie a voi grazie grazie a te grazie a Emilio Dacia Luca Nicola e anche se è già andato via ovviamente al relatore speciale delle Nazioni Unite Pedro Arrojo Agudo e un grazie speciale a tutti e tutte coloro che ci hanno seguito fino adesso ci ha fatto molto piacere vedere tutta questa partecipazione tutta questa attenzione tutti i commenti le domande e che dire sicuramente la sfida che ci aspetta è ancora è ancora ardua e sappiamo però di essere in tanti a questo punto e giustamente richiamo e voglio richiamare quello che ha detto Luca c'è questo movimento dei giovani che proprio l'altro giorno ha fatto la sua manifestazione nonostante il covid nonostante tutto con il global climate strike e quindi insomma non ci resta che continuare ad arrotolarci le maniche e combattere perché questo diritto umano ricordiamocelo sempre diritto umano all'accesso all'acqua sicura pulita e ai servizi sanitari sia garantito per tutte e per tutti bene io direi che possiamo chiudere qui e continuate a rimanere collegati con noi attraverso il sito i canali social e firmate se non l'avete ancora fatto l'appello sulla quotazione proprio per accendere il campanello d'allarme su questa quotazione dell'acqua in borsa e sicuramente se non prima diamo già l'appuntamento per il decennale del referendum ma da qui a giugno tante azioni possiamo ancora mettere e già mettere in campo un ringraziamento ancora a tutte e a tutti e a risentirci e arrivederci presto un ringraziamento